Tornano i problemi legati alla viabilità nel vallone. Con le prime piogge scroscianti delle scorse ore, tanti sono i disagi provocati ai pendolari. Due le strade maggiormente martoriate dalla prima ondata di maltempo di venerdì scorso. La strada che collega Vallelunga e Villalba con Mussomeli è la ISP38, che collega quest'ultima con Galtanissetta. Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno provocato parecchio fango sulle carreggiate ed addirittura c'è stata un'iniziativa lodevole di un contadino della zona, che ha spalato fango di sua spontanea volontà per permettere la circolazione delle macchine. La situazione al momento sembra essere tornata alla normalità dato il graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma si invita comunque a tenere alta la guardia poiché qualche detrito potrebbe essere rimasto nella carreggiata.